Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Decreto sisma, elezioni regionali e sanità Intervista a tutto tondo al presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli Mareggiate a Fano, 300 mila euro di danni privati e 30 mila quelli pubblici Segnalazioni inviate in regione per la richiesta dello stato di emergenza Continua il botte risposta a Fano sul digestore anaerobico Maggioranza divisa e opposizione all'attacco Al via il Natale più di Fano, domani si inaugurano la pista di ghiaccio e il presepe di sabbia Mentre domenica spettacolo di luce e suoni per l'accensione della vieta in piazza 20 Settembre L'evento verrà trasmesso in diretta su Fano TV Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizio L'avete sentito dai titoli soci della Berloni, storico marchio di cucina Hanno deciso di mettere in liquidazione alla società una doccia gelata per gli 85 dipendenti Che questa mattina hanno tenuto un picchetto davanti agli stabilimenti di chiusa di Ginestreto Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra Per la Berloni potrebbe scriversi il capitolo finale della sua storia aziendale I soci di maggioranza taiwanesi che detengono il 99% delle quote societarie Hanno messo in liquidazione l'azienda Il che vuol dire interruzione della produzione e licenziamenti Una pentola di acqua bollente sulla testa di 85 famiglie e di lavoratori Che a 20 giorni dal Natale hanno ricevuto questa bella strenna Fata di angoscia, frustrazione e incertezza per il proprio futuro La storia della Berloni è iniziata negli anni del boom economico italiano Gli anni 60, quelli della rivoluzione industriale e del benessere diffuso Fino ad arrivare negli anni 90 Ad essere una delle aziende al top nell'Olimpo dei mobilieri a livello nazionale Assieme ad altri marchi storici pesaresi Poi la crisi strutturale partita nel 2009 Ha portato l'azienda nel 2013 sull'orlo del baratro E lì è stato l'inizio della fine Perché per superare la crisi si inizia a fare lo spezzatino E a vendere i rami dell'azienda L'anno dopo arrivano gli orientali che si accaparrano il pacchetto di maggioranza Ad oggi con un fatturato di 19 milioni di euro E un incremento in doppia cifra più 20 rispetto al 2017 E con consegne da fare e commesse nel cassetto Ed una trattativa avviata con la proprietà Per un premio di produzione ai dipendenti Arriva l'annuncio shock e lo stroncamento della ripresa Questa mattina agli 85 dipendenti e ai sindacati Si è ripresentato lo spettro che sembrava essere scongiurato È arrivata questa decisione presa dai soci a maggioranza Da quella che abbiamo capito Che è quella di mettere in liquidazione Quindi non la capiamo in più è terribile Perché mettere in liquidazione una società Vuol dire interrompere l'attività produttiva E di fatto quindi interrompere anche tutti i rapporti di lavoro in atto Adesso vedremo cosa è possibile fare Con l'eventuale liquidatore che arriverà Le sue decisioni quali saranno Noi saremo sempre a chiedere che l'azienda rimanga sul territorio Che continui a produrre Perché è un'azienda che ultimamente non è che andava male Anzi era un'azienda in espansione e stava crescendo Non riusciamo a capire questa scelta Che noi riteniamo anche scellerata Il sindacato farà quello che è nelle sue competenze Speriamo bene Stiamo sperando in questo momento Difende il fratellino e viene aggredito alla fermata del bus È successo ieri pomeriggio intorno alle 14.30 Vicino alla stazione ferroviaria di Fano Alla pattuglia del nucleo radiomobile Aveva notato un ragazzo che stava aggredendo in maniera violenta Un coetaneo afferrandolo per il collo Nonostante il tempestivo intervento dei militari Il diciottenne in evidente stato di ubriachezza Continuava a inveire La vittima dell'aggressione in realtà Era intervenuta in difesa del fratello più piccolo Al quale il giovane Moldavo Si era rivolto chiedendo una sigaretta Richiesta questa impossibile da accogliere Visto che non fumava Da qui l'immotivata aggressione Un carabiniere e la vittima hanno riportato Lesioni lievi risorbibili nel giro di qualche giorno Il diciottenne già conosciuto alle forze dell'ordine E' stato arrestato per esistenza Violenza pubblico ufficiale E lesioni personali Oggi si sono svolti l'udienza di convalida E il rito direttissimo All'esito del quale è stata combinata al Moldavo La pena di otto mesi di reclusione Inoltre gli è stata notificata La misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio Con divieto di ritorno nel comune di Fano Per un periodo di tre anni E la comune di Fano Ha inviato oggi alla Regione Marche I dati raccolti Dalla ricognizione dei danni Effettuata in seguito alle mareggiate Del 12 e 13 novembre scorsi Lo fa sapere l'amministrazione comunale Le segnalazioni di privati cittadini Nella maggior parte dei casi titolari Gli stabilimenti balneari Sono state in totale 29 Per un ammontare di circa 308 mila euro E riguardano il ripristino di strutture E infrastrutture danneggiate E danni subiti da attività economiche produttive Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche Come ad esempio la passeggiata dell'Isippo Che ha subito la rottura parziale Di una panchina Di una paratia E vari arredi urbani La ricognizione ha portato a stimare La somma di 30 mila euro La Regione raccolte Tutte le segnalazioni Da parte dei comuni interessati Conclude il Comune Provvederà all'invio Dei dati al Ministero Per la richiesta Dello Stato di Emergenza Il dibattito Acceso ieri sera Durante il Consiglio Comunale Di Fano Nel quale è continuato Il botta e risposta Tra maggioranza E opposizione Sul digestore anaerobico Sentiamo allora Le interviste Che abbiamo realizzato A Gianluca Ilari Della Lega Fano E poi a Marta Ruggeri Del Movimento 5 Stelle La maggioranza È totalmente In disaccordo O meglio Non hanno dato una linea Seri nel suo intervento Di 37 minuti Non ha parlato di nulla E anzi Ha ribadito La possibilità Che se i prossimi Studi futuri Diranno Che Bellocchi Sarà il sito Idoneo Per la realizzazione Del digestore Allora lui In quel caso Sarà disponibile A rivedere Anche la sua La sua posizione Per noi invece È importante Ribadire La nostra posizione Che poi è stata Anche un po' Strumentalizzata Durante il dibattito Di ieri sera Perché la Lega Ha sempre sostenuto Che Aset È una società di servizi È una società pubblica Che deve continuare A fare servizi E non si deve assolutamente Infilare In un cul de sac Del genere Perché sono investimenti Ad alto rischio E drogati Dall'esistenza Degli incentivi statali Noi siamo Contrari Al digestore A Fano Perché farlo In qualsiasi zona Della città Arreccherebbe Un disagio Che secondo noi La città Assolutamente Non deve sostenere Questi 300 mila euro Paventati di risparmio Qual è la vostra posizione A questo riguardo? I 300 mila euro Sostanzialmente Avvalorano La nostra tesi Perché È lo stesso È la stessa normativa Che dice Che Se un impianto È fatto in un comune Proprio per limitare Il disagio Che arreca E quindi Diciamo che Si parla Quindi già di disagio Nella stessa normativa Verranno conferiti 5 euro A tonnellata Stando all'ipotetico Perché chiaramente Ancora non c'è Nessun progetto Neanche preliminare C'è solo un pre-pre-studio Di fattibilità Non si sa quanti pre Bisogna mettere davanti È stato individuato Un impianto Da 60 mila tonnellate Che per 5 euro Porterebbero 300 mila euro Al comune Non alla società Che realizza l'impianto L'investimento Ma al comune Quindi Se la stessa normativa Ci dice Che Per risanare un disagio Vi do dei soldi Evidentemente Parlare di impatto Completamente zero È forviante Noi però In tutta onestà Siamo anche noi I primi a dire Che avendolo studiato In commissione di garanzia e controllo Con il nostro presidente Scopelliti Siamo i primi a sostenere Che non nascheranno Bambini con due terzi Oppure bimbi deformi Però è chiaro Che Fano Deve rimanere distante Da un impianto del genere Si è aperto il consiglio comunale Con una nostra interrogazione Per sapere Che posizione ha Questa maggioranza Sulla questione delicata Del digestore E ho avuto Delle risposte Estremamente evasive Dopodiché Si è discusso Lungo Della mozione Presentata dalla Lega Che chiedeva Un netto No Alla localizzazione Del digestore A Falcinete Bellocchi E anche in questo momento Che poteva essere importante Per tutta la città Abbiamo avuto una risposta Da parte del sindaco Che ha parlato Per oltre 30 minuti Senza alla fine Affrontare quasi mai Il discorso di gestore E ha detto cose Irrilevanti Dal nostro punto di vista Quello che è sicuro È che in maggioranza C'è un gran malcontento Ci sono dei consiglieri Che si sono stracciate le vesti Per dire che il digestore Non deve essere fatto Per esempio a Monteschiantello Perché lì È previsto L'ampliamento della discarica Questi cittadini Lo dovrebbero sapere E anche i consiglieri Che sono tanto propensi Al no Per il biodigestore Realizzato lì Dovrebbero parlare Sinceramente Con i cittadini Dicendo che hanno votato Invece Nelle linee programmatiche Per l'ampliamento Della discarica Poi invece Per quanto riguarda Bellocchi Nel sito È scritto nero su bianco Che quello È il sito migliore La nostra posizione Riguarda sostanzialmente Tre punti Il primo È il dimensionamento Secondo noi Un dimensionamento Come quello previsto Dall'amministrazione È esagerato Perché È in discussione Insomma In regione Una proposta di legge Fatta dal nostro Consigliere regionale Pier Giorgio Fabri Perché Siano localizzati Nella zona rurale Dei piccoli Digestori Aerobici Dei impianti Di compostaggio Piccoli A chilometro zero Che potrebbero Alleggerire Il conferimento Nell'impianto Che si dovrà realizzare A questo punto Non sappiamo più Neanche se Affano o meno Per quanto riguarda Invece Il parternariato Noi Da una prima analisi Che abbiamo fatto Sui numeri Riteniamo che Aset potrebbe Sostenere L'impegno Da sola E quindi In questo caso Non ci sarebbe Bisogno Dell'ingresso Di marche Multiservizi Perché non vorremmo Che fosse un cavallo Di Troia Per poi essere Risucchiati In quell'orbita Cosa che Vorremmo Assolutamente evitare Il sindaco Ha detto Che su questo punto È d'accordo Con noi Ancora cronaca Incidente stradale Poco prima Delle ore 17 In via dell'artigianato Nella zona Industriale Di Lucrezia Nel comune Di Cartoceto A scontrarsi Sono stati Un furgone E una Fiat Panda Entrambi guidati Da ragazzi Poco più Che ventenni Il conducente Dell'auto È stato trasportato Dal 118 Al pronto soccorso Illeso invece Il conducente Del furgoncino Sul posto È intervenuta La polizia locale Di Cartoceto Per rilievi di legge Dinamica Però ancora Al vaglio Degli agenti Per stabilire La responsabilità Secondo i primi Accertamenti Pare che Dopo l'urto L'auto Si sia Cappottata Per poi Riassestarsi L'azienda Ospedaliera Marche Nord Tra le aziende Sanitarie In Italia A vincere La quarta edizione Del premio Sciam L'appuntamento Annuale Che ha l'obiettivo Di diffondere La cultura Della prevenzione Del rischio clinico Il progetto Ad avere la menzione Speciale È quello Relativo Alla gestione In sicurezza Dei pazienti In trattamento Chemioterapico Orale Ed è stato Selezionato Tra altre 122 Candidature Giunte Da altre Realtà Sanitarie Ad esprimere Soddisfazione Il direttore Generale Maria Capalbo Il nostro Progetto Ha precisato Invece Nicola Nardella Responsabile Del rischio Clinico Dell'AORM Fa parte Dal fatto Che numerosi Sono i farmaci Che saranno Disponibili Esclusivamente Per uso Orale I vantaggi Per il paziente Per il sistema Sanitario Sono evidenti Comodità di assunzione A domicilio E riduzione Degli accessi In ospedale Di sanità E non solo Ne parleremo tra poco Nel telegiornale Con il presidente Della regione Luca Ceriscioli In occasione Della settimana Dedicata Alla violenza Di genere Il Polo Trefano Ha inaugurato Una campagna Di sensibilizzazione Itinerante Per le principali Vie della città Il servizio Di Francesco Salvago In occasione Nel mio lavoro Ho voluto evidenziare La gravità Della violenza Sulle donne E in pratica Diciamo che Questo filo Perché è una cosa Tutta unita È un filo Che disegna Una sagoma maschile Che rappresenta Il volto Di un uomo E dalle sue labbra Continua Questo filo Spinato Che arriva fino Alla gola Della donna Che la strangola E in pratica Sta a significare Che La violenza Cioè Le parole Fanno male Quanto la violenza Fisica E come sfondo Ho scelto Il colore rosso Che rappresenta Per me Il colore Dell'amore Ma anche Del sangue E come slogan Ho scelto Tagliamo la violenza Con queste forbici Che tagliano Il filo spinato Volevo mandare Il messaggio Che tutti noi Dobbiamo Tagliare Dobbiamo essere uniti Per tagliare Questa violenza Sulle donne E sulle ragazze L'iniziativa Fortemente voluta Dagli studenti Che hanno prodotto Una serie di bozzetti Grafici Vuole rappresentare Attraverso l'arte Il fenomeno Della violenza E sensibilizzare La comunità In difesa Di diritti Delle donne Abbiamo aderito A questo progetto Sicuramente Donna Che ha un respiro Nazionale Perché ci sono Dei lavori Che vengono presentati Anche in senato Ma soprattutto All'interno della scuola Con i ragazzi Della quarta B Di grafica Del professionale Abbiamo utilizzato La loro creatività Grafica Proprio per Parlare Dell'argomento Il pullman Ha stazionato In un primo momento Al pincio Dove erano presenti Oltre a docenti E studenti Anche la polizia locale Come figure istituzionali Siamo sempre presenti E a disposizione Per qualunque Fenomeno Il problema Si possa verificare Sul territorio Altro momento Significativo Della campagna Itinerante È stata La lettura Di alcune citazioni Da parte Degli studenti Chiunque nella vita Affronta momenti duri Non deve mai Perdere il desiderio Di vivere Perché la vita Vale sempre La pena Di essere vissuta Bisogna intervenire Negli anni Della formazione E offrire ai ragazzi Anche esempi maschili Che incarnino valori positivi Alle donne Voglio dire Voletevi bene Tanto Tantissimo È questa la chiave Se ti vuoi bene Non consente a nessuno Di trattarti come uno straccio Dovete credere in voi stesse Sappiate che ogni atto Di violenza subita Non dipende mai Da voi Chiamate l'uomo sbagliato Ma da lui Che lo commette E proseguono Le iniziative Del Natale Che non ti aspetti Nella provincia Di Pesero e Urbino Lo scorso fine settimana Abbiamo seguito Le cerimonie inaugurali Di Pesero e Monbaroccio Domenica primo dicembre Saremo invece Nel centro storico di Fano Per seguire con uno speciale Una diretta tv Lo speciale Lo spettacolo di luci Musica e magia Con l'accensione Della grande albero In piazza 20 settembre Prevista alle ore 18 circa Noi saremo invece In diretta Come vedete In questo cartello Dalle ore 17 e 45 Domani intanto Si terrà la giornata D'apertura del Natale più Che darà il via Ai suoi eventi Alle ore 16 e 30 Verrà inaugurato Il presepe di sabbia In piazza Amiani A seguire la pista Di pattinaggio Alle ore 18 A bordo del trenino Si raggiungerà Via Garibaldi Dove verrà inaugurata La via dei ciliegi E dei bambini Ed ora ci spostiamo A Iesi Dove nei giorni scorsi Si è tenuto un incontro All'Interporto Nel quale Confartigianato Trasporti Ha illustrato Tutti i dettagli Del protocollo Con il ministro De Micheli L'intesa firmata Con il governo E la nuova gamma Di veicoli Che permetteranno Di contenere I consumi Di carburante E le emissioni Sono stati Gli argomenti Al centro Del convegno Organizzato Da Confartigianato Trasporti Tenutosi nei giorni scorsi All'Interporto Marche Nel polo logistico CAM Oltre 4.000 Le aziende marchigiane Coinvolte Con circa 12.000 Addetti Per riottenere Gli stanziamenti Destinati al settore Il rimborso Delle accise Il rinnovo Del parco veicoli E il rispetto Dei tempi di pagamento In questa intesa Che cosa troviamo Intanto le risorse Che sono importanti Risorse Che quest'anno Sono state implementate Con circa Altri 100 milioni Per quanto riguarda Gli investimenti Perché abbiamo Un parco veicoli Molto obsoleto Un'altra questione Che è prevista Che però deve essere Realizzata È quella Diciamo Dei tempi di pagamento Questo è un settore Che lavora Anticipa I costi Per poter lavorare Ma poi La riscossione Viene fatta In 60 90 Qualche volta 120 giorni E questa è una situazione Insostenibile Perché i costi Sono tanti E poi i rischi Che le imprese Committenti Non paghino Insomma Sono molto evidenti Affrontato anche Il tema delle infrastrutture Marchigiane Per le quali I dirigenti Di confartigianato Trasporti Hanno evidenziato La necessità Del completamento Di alcune strade Collegamenti strategici Per il settore Come nella zona Dell'Interporto E del porto Di Ancona Ma non solo Manca il collegamento Porto a 14 Anche di questi giorni Altre iniziative Fatte con il comune Con l'autorità portuale Proprio perché Il collegamento È fondamentale Inutile avere Una grande infrastruttura Se è isolata Ma poi I problemi veri Sono anche L'autostrada a 14 La 76 Un'altra opera Per esempio Con la quadrilatra Dove essere raddoppiata Invece ci sono Anche qui Degli intoppi Pesantissimi I lavori Non vanno avanti L'affano grosseto Anche questa È un'altra opera Importantissima Che noi Auspichiamo Che venga fatta Tempestivamente Perché non c'è Il collegamento Tra l'Adriatico Diciamo La Toscana L'Umbria Questa sera Dopo il telegiornale Occhio alla notizia Trasmetteremo Uno speciale Realizzato Durante l'incontro Organizzato Dall'Associazione Di Categoria Ed ora Do il benvenuto Al Presidente Della Regione Marche Luca Ceriscioli Presidente Buonasera Grazie per aver raggiunto I nostri studi Grazie a voi Partiamo subito Dall'attualità Perché sui quotidiani Oggi troviamo Diversi articoli Che riguardano Il decreto Sisma Con l'aiuto Della regia Iniziamo Dalla Corriere Adriatico Sisma Il decreto Legge avanza La Camera Ceriscioli Lei dice Non basta Per Agostoli È eccessivo Il segretario Regionale Del PD Tenta di frenare Il governatore Sotto segretario Morani Lobacchetta Ma lui Non molla A Roma La Camera Ha approvato Questo decreto Legge Per le regioni Colpite dal Sisma Che dovrebbe dare Un'accelerazione Definitiva Alla ricostruzione Passiamo Invece Al resto Del Carlino Dicevamo Ceriscioli Contro il governo Pronti A manifestare E sostanzialmente Lei ritiene Che questo decreto Sia uscito Dalla commissione Addirittura Indebolito Rispetto Al primo Impianto Quindi Questo decreto Sisma Era da rafforzare Ma in che modo Secondo lei L'obiettivo Numeruno Del decreto Sisma Doveva essere Quello Di accelerare La ricostruzione Le risorse Le abbiamo Già dal primo anno Quindi soldi Ci sono Non fatto Da questo punto Di vista Ma le procedure Che si applicano Dentro la ricostruzione Sono molto pesanti Molto burocratiche Per la ricostruzione Pubblica Si usano le stesse Che si usano Ordinariamente Con dei passaggi In più All'Anac Sulla privata Una pratica Praticamente Fa tre passaggi Uno col professionista Uno col comune E uno col ufficio speciale Della ricostruzione Con tante volte In cui va avanti Indietro Per le integrazioni Queste cose Non funzionano Hanno bisogno Di un passo diverso Bisogna utilizzare Procedure straordinarie Perché sono tantissime Le cose da fare Il decreto Affonta tanti aspetti Al contorno Anche positivi L'anticipo Ai professionisti E da tanto che ne parliamo C'è il 50% Di anticipo Misure per I giovani Che vogliono fare Nuove imprese E hai L'estensione Di Si chiama Resta al sud Ma è una misura Insomma a favore Le imprese Ma sono elementi Di contorno Manca nel decreto Il piatto forte Cioè Come accelerare La ricostruzione privata Come accelerare La ricostruzione pubblica Dare garanzie A quelli che ci lavorano Dentro E speranza per il futuro Sono quattro elementi Essenziali Ma che il decreto Non affronta Nella prima stesura Quella diciamo Del governo Aveva una certa valenza Poi dalla commissione Uscito indebolita Ieri Ieri Hanno aggiunto Tanti Piccoli Aspetti Di contorno Ma manca Il centro Ed è difficile Accettare Dopo tre anni Di fronte Alla difficoltà Di ricostruire Un decreto Che non va Al cuore del problema C'è stato anche Questo ping pong Con Alessia Morani Tra l'altro Sempre del partito Democratico Lei dice Abbiamo fatto Quello che Era stato promesso È così? No Manca proprio Quello che dicevo io Se Approvato il decreto Abbiamo i 5 mila euro Per chi vuole fare Un'impresa O l'anticipo Al professionista Ma i tempi Della pratica Restano quelli Cosa abbiamo risolto? Cosa abbiamo portato a casa? Ecco perché Insisto Siccome deve andare Ancora al senato Mancano delle parti La mia battaglia Non è Strumentale È per avere un risultato Quindi Ho voluto mettere Di fronte a tutti Il fatto che Il cuore del problema Non viene affrontato Altrimenti Il decreto va avanti così E poi il giorno dopo Si continua ad andare avanti Con lo stesso ritmo Anche il fatto che A chi non ci lavora Già da tempo Non vengono date garanzie Di restarci a lungo Ma c'è un cenno Insomma Alla possibilità di È un punto Che indebolisce molto La ricostruzione Abbiamo proposto Senso incremento di spese Di utilizzare Una parte di fondi Già destinati Per un'incentivazione Più forte delle imprese Come le fiscalizzazioni E altro Anche di questo Traccia non c'è Insomma Mancano quegli aspetti Di maggiore impatto Che oggi È importante sottolineare Perché domani Quando non ce li avremo Inizieremo a dire Ah la ricostruzione Non funziona Ah c'è troppa burocrazia Ah le cose Non vanno avanti Poi con l'idea Magari di incolpare La regione Che è l'unica Oltre di impegnarsi Che ogni volta Ormai da un anno e mezzo Sottolinea queste carenze Non era più possibile Oggi Credo che tutti Siamo consapevoli Che quella velocità Non va bene Bisogna fare scelte conseguenti Cerisciori Lei ha il suo primo mandato Da governatore Ricordiamo che Marchigiani In prossimo anno Dovranno tornare Alle urne Per le elezioni regionali Si ricandiderà Si terranno Le primarie di coalizione Io la disponibilità L'ho già data C'è lo statuto Del Partito Democratico Prevede che entro settembre Si debba dare Formalmente Una disponibilità Io questo l'ho già fatto Anche le primarie Hanno il loro percorso Nessuno le sta attivando E poi vedremo Diciamo dentro l'iter La parte mia l'ho fatta Era stato aperto anche Un dialogo Con il Movimento 5 Stelle Si sta proseguendo Verso questa direzione Sì È corretto Perché dopo Col fatto che si governa assieme È giusto verificare Anche a livello territoriale Tutte le possibilità Che ci sono So che Gli incontri Stanno andando avanti C'è un ragionamento Fatto giustamente Non all'ultimo momento Come è successo in Umbria Che ha l'aspetto Anche un po' forzato Ma proprio costruito Su temi E sulle opportunità Che ci sono di fronte Si sono Nel Movimento 5 Stelle Nell'ultima votazione Su un atto importante Come l'assestamento Ha tenuto un atteggiamento Molto costruttivo Cioè Passando poi Chiamiamolo Dalla storica Polemica PD 5 Stelle Andando andare Guardare i problemi E i progetti Si è visto Che qualche passo in avanti Lo si fa E i 5 Stelle In consiglio regionale Hanno tenuto un atteggiamento Molto più attento Alle cose Molto più costruttivo Proprio in un atteggiamento Che vuole guardare Fin in fondo Se questa possibilità c'è Ma non per Fare della chimica politica O Inventarsi qualcosa Dall'ultimo momento Proprio per andare a verificare Fin in fondo Se attraverso temi importanti Come Pensiamo Il tema dell'ambiente Oppure Quello Del sociale C'è molta convergenza Si possa costruire Un progetto Per le marche Passiamo ad un altro tema Sempre molto caldo E attuale Quello della sanità Lunedì scorso È stato dato Il via libera Dalla commissione sanità Al piano socio sanitario 2019-2021 L'atto Ha ottenuto Il disco verde Con il voto contrario Della Lega E l'astensione Dei consiglieri Di Fratelli d'Italia E Movimento 5 Stelle Il traguardo finale Per il principale atto Di programmazione sanitaria Dunque si avvicina Ma questo risultato È arrivato dopo ben Nove mesi circa Di lavoro Un lavoro avviato a febbraio Numerose le audizioni Oltre 100 gli emendamenti Adesso la parola Passa a Laura Qual è L'obiettivo principale Di questo piano La commissione ha fatto Veramente un grandissimo lavoro Nove mesi su un atto Non accade mai Hanno fatto audizioni Chiamate Richiamate le persone Il grosso degli emendamenti È stato recepire Proprio quello che è arrivato Dai tanti soggetti Che si sono confrontati Con il piano Quindi nel piano sanitario Non c'è solo il contributo Della giunta O della commissione Ma veramente Tutto un mondo Fatto di sindacati Associazioni Che si sono avvicinati A questo strumento Hanno dato un contributo E questo è stato recepito Sono stati affrontati Anche i temi più forti I nodi più complessi Quindi la commissione Non è che si è sottratta Nel dibattito Io spero che questo lavoro Ci permetta in aula Di poter andare più speditamente Verso l'approvazione Cioè grazie al lavoro Che è stato fatto Alla commissione Che in aula Anziché ripartire da zero Come spesso capita Con i provvedimenti Più importanti Proprio il frutto Di questo lavoro Possa portare A una rapida approvazione Che cosa contiene Nello specifico Per gli ospedali Dell'introterra pesarese Nella volontà Una modifica Fatta proprio in commissione Ha messo un accento Più forte In termini di attenzione Su La salute Delle aree interne Sono molte iniziative Che vanno in quel senso Penso per esempio I progetti Collegati Ai piani straordinari Per le aree interne All'elicottero H24 Che porta un pronto soccorso L'elicottero 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 È una pronto soccorso Ambulante Quindi te lo porta In tutto il territorio In pochissimi minuti Con poi dietro L'ospedale di Torrette Che non è un ospedale qualunque È un ospedale di eccellenza E in questo caso Anche rispetto ai presidi Fare in modo Che non vengano sguarniti Che possono offrire Quelle prestazioni Che è giusto dare Sulla base delle norme A tutti i cittadini Anche per evitare Inutili spostamenti Verso il pronto soccorso Questo è un tema Molto sentito Il fatto che oggi Anche per piccole cose Si debba andare Al pronto soccorso L'impostazione del piano Vorrebbe evitare questo In modo che il pronto soccorso Ci vada possibilmente Solo chi ha veramente bisogno Ecco Il compito della politica Tra l'altro Deve essere proprio Quello di garantire A tutti i cittadini Il diritto alla salute Pari dignità Ma anche la possibilità Uguale Di raggiungere In situazioni di emergenza Urgenza Crede che sia stato Raggiunto questo scopo Penso che Da quando si attiverà Già abbiamo una rete Di 118 Incrementata del 40% Rispetto ai livelli Essenziali previsti Per legge Quindi già oggi C'è un sistema Rafforzato Quello che si farà Con l'elisoccorso Non andrà a togliere nulla Aggiungerà A questo sistema Per tutta la giornata L'elisoccorso In tutta la regione E quindi è un percorso Un processo Che ha atteso A rafforzare Sempre di più Questa capillarità C'è chi pensava Che mettendo l'elicottero Andiamo a togliere altre cose No, il progetto Non prevede di togliere nulla Anzi di andare sempre più A rafforzare Questo sistema Sommando fra loro Gli effetti positivi Dei vari dispositivi La regione Marche Sotto questo punto di vista Nei parametri nazionali Ci entra pienamente Ma noi ci vogliamo Puntiamo Sono su un obiettivo Anche di qualità Sono circa 28 le piazzole Se non ricordo male Sono 39 Perché 28 Con diverse misure Ma poi ovviamente L'impegno sarà quello Di aumentare i punti In cui l'elicottero Potrà atterrare Perché ne verranno realizzate Delle nuove, no? Come no Quando saranno tutte realizzate Queste previste oggi Sono 39 Ma nulla vieta Di continuare a investire E finanziare Per farne le altre O anche qualificare Gli spazi Per l'atterraggio Dell'elicottero Il disegno complessivo Sarà di una vera Capillarità Nel poter godere Di questo servizio Che serve nei casi Più importanti L'infarto L'ictus Cioè il trauma grave Sono quegli aspetti Che mettono a rischio La nostra sopravvivenza E quindi poter contare Giorni e notte Su un'infrastruttura Come le di soccorso È qualcosa di molto importante E anche in caso di condizioni Meteorologiche avverse? Meteo avverso Soccorso Search and rescue Cioè anche il soccorso Quello dove il medico Si cala Dall'elicottero Per andare in un punto impervio Perché può capitare In qualunque parte Della regione Cioè è veramente un servizio Che va a coprire Tante situazioni Ed è particolarmente interessante Per le aree interne Che sono quelle Che come collegamenti Per loro natura Fanno più difficoltà A proposito di aree interne Pensiamo ad esempio All'ospedale di Pergola Parliamo di ospedali In area particolarmente disagiata Ecco questo che cosa significa In sostanza È vero che Significa una struttura sanitaria Senza più personale proprio Ma inviato a turno Dagli ospedali vicini Ma il Oggi Già oggi Questa non è una novità In tutte le rivaste Quindi in area vasta 2, 3, 4, 5 La parte per Acuti È un unico ospedale Cioè Macerata Civitanova Sono un ospedale San Benedetto Ascoli Sono un ospedale Stessa cosa vale per Iesi Senigallia E Fabriano Urbino E Pergola Sono un ospedale Ma questo è un vantaggio Per l'ospedale interna Non è un problema Perché nel reclutamento Dei medici Cosa che diventa sempre più difficile Per una cattiva programmazione Che c'è stata da parte dello Stato Poter contare su questo meccanismo Permette di avere i medici dappertutto Essendo un'unica struttura Lo dobbiamo leggere come un elemento di garanzia Non come delimitazione Su Pergola Stiamo investendo oltre 4 milioni di euro Per gli aspetti strutturali E di qualificazione Così come stiamo facendo su Cagli Altri 4 milioni di euro C'è un progetto da 2 milioni di euro Per Sasso Corvaro E da 400 mila euro Per Fossombrone Cioè complessivamente Parliamo di cifre Importanti Che testimoniano la volontà Non solo di garantire i servizi Ma di farlo in strutture sicure Investendoci soldi Che cosa risponde invece a chi sostiene Che la giunta regionale Abbia smantellato via via gli ospedali? Ma non è che sono stati smantellati La riforma prevista dalla normativa nazionale Del decreto ministeriale 70 Cambia il modo soprattutto Di gestire la sanità per acuti Certe funzioni vanno verso L'aspetto di essere concentrate E altre in maniera più diffuse Io credo fino a qualche anno fa Il tema appunto della difesa dell'ospedale Era un tema dell'area interna Oggi abbiamo dei dibattiti Fai che ne so Macerate Civitanova Perché dovendo fare un ospedale solo Sempre è incredibile anche loro Mettere in discussione Le funzioni del presidio che hanno oggi Ma è un riordino Che va tutto a vantaggio dei cittadini Perché garantisce la qualità della prestazione Ad esempio anche una struttura evoluta Come Marche Nord Sulla chirurgia pediatrica Non può fare tutto quello Che si faceva un tempo Perché alcuni interventi Se non hanno abbastanza numeri E' bene non farli Ma per il paziente E sono concentrati sul Salesi Sull'ospedale pediatrico regionale Quindi un meccanismo che riguarda Tutto il sistema sanitario Non solo le aree interne Ma questo non ha impedito Di sostituire Diciamo i servizi Che non si possono più fare Con altri di natura territoriale Compatibili con le normative Che garantiscono Il più possibile Questa disposizione Quindi il lavoro Sta nel riformare un sistema Dando funzioni che sono compatibili E utili ai cittadini Fin dentro casa E riordinare la parte per acuti Concentrando il più possibile Anche in questo caso Sono stati presentati Durante una conferenza stampa Che si è tenuta a Pesaro Cinque nuovi primari Come possiamo vedere dall'immagine Era presente anche Maria Capalbo Che è stata riconfermata Per i prossimi tre anni Come direttrice generale E quindi l'azienda ospedaliera Marche Nord Continua ad investire Non soltanto sulla tecnologia Ma anche sul capitale umano Ma questo sta avvenendo In tutta la sanità regionale Era un punto debole Quando sono arrivato Quattro anni e mezzo fa Mi ricordo molto bene Una conferenza stampa A Macerata Dove il sindaco Ho preso la parola E fece l'elenco Di dodici primari Che mancavano Con dei facenti di funzione Che li sostituivano Dicendo Ma non li state nominando Perché avete in mente Di smantellare Il presidio di Macerata E abbiamo recuperato Quindi dappertutto Questa chiamiamo la tendenza A lasciare per troppo tempo Scoperti i posti Facendo nuovi primari Marche Nord Ha una struttura amministrativa Particolarmente efficiente E quindi spesso riesce Anche prima degli altri A portare fino in fondo Questo percorso Ma lo stanno facendo Oggi tutti quanti E sono convinto Che una struttura ospedaliera Quando manca Il punto di riferimento Per quanto siano brave E competenti E impegnate Le persone che ci lavorano Non è mai la stessa cosa Dell'avere un punto di riferimento Importante In un professionista Che è il primario Di quella struttura Quindi in tutta la regione Credo che ne abbiamo nominati In questi anni Una cinquantina Ma non perché Per recuperare Anche tutti quelli Che prima non c'erano E stiamo facendo Questi passaggi Il più possibile Con la massima celerità Per non lasciare scoperti Passiamo invece Al nuovo ospedale Di Marche Nord A Muraglia Nonostante le polemiche Sulla sua ubicazione Procedono comunque Le varie procedure Che sono necessarie Per la realizzazione Di questa struttura A che punto sono? Sì Sono i tecnici Che ci stanno lavorando È una procedura Molto complessa Non vogliamo essere superficiali Perché non vogliamo Regalare niente a nessuno È stato pubblicato il bando Ancora ci vuole un po' di tempo Ancora non è stato pubblicato So che ci stanno lavorando Con grandissimo impegno L'obiettivo è quello Di dare qualità al percorso Quando si decide Un bando di quella natura Non è solo la costruzione Nell'ospedale Ma per alcuni servizi Servizi che tra parentesi Già oggi fa il privato La pulizia Lavanolo Il servizio del calore Vi dicendo Si va su contratti Molto lunghi Quindi è giusto Prestare la massima attenzione Perché poi queste scelte Condizioneranno Un periodo molto lungo Io trovo che il tempo Insomma che ci si mette Non è il tempo Che i nostri tecnici Impiegano In questa procedura Ci restituirà Tanta qualità Poi negli anni Nella gestione dei servizi Sulla sanità Della nostra provincia Un altro problema Che riguarda la nostra regione È quello riferito Alle liste d'attesa Quali sono ad oggi i dati? Beh qui è un problema nazionale I dati sono molto buoni Cioè di forte miglioramento Per esempio Sugli obiettivi nazionali Sono 69 prestazioni Le più diffuse Con le classi di priorità Urgente, breve Differita, programmata Che sono i tempi Dettati dalla legge 10 giorni 30-60 Sono 180 E diventeranno 120 Con il meccanismo Del bonus malus Introdotto Dal mese di luglio Tutti quelli Che fanno richiesta E che aderiscono Alle liste di garanzia Che l'ultimo passaggio Quando non si trova Nell'immediato un posto Ricevono la risposta Nei tempi dovuti È stato un grandissimo Salto di qualità La verifica Come si dice La facciamo ex post Cioè seguiamo Uno a uno Tutti quelli che fanno domanda Fino all'arrivo finale Poi ci sono Altri aspetti Che sono fuori Dall'obiettivo nazionale Di vista attesa E penso alle visite Cosiddette di controllo Che non hanno un tempo Previsto Dall'istrumenti O le visite Che stanno fuori Dalle 69 Che normalmente Sono visite Di secondo livello Cioè Dentro un percorso di cura Non si inizia con quelle Lì i tempi Sono rimasti Giustamente Da non c'è un limite Un po' più lunghi E in alcune Non sempre si rispetta L'obiettivo Che ci siamo dati Dopo aver raggiunto Il 98 99% Su quello che è L'obiettivo nazionale Dando quest'estate 24.000 prestazioni In più Ai marchigiani Dentro Il nostro sistema Di allargare Ad alte prestazioni Questo stesso meccanismo Perché abbiamo visto Che funziona molto bene Portare le visite di controllo Ragionevolmente A un tempo limite Di un anno Perché è corretto Che una visita di controllo Si faccia anche l'anno dopo Perché se ha l'urgenza Può usare Le classi previste Dall' 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 E accorciare La distanza Molti di quelli Che rifiutano Oggi Non prendono La visita Che per noi Sono soddisfatti Ma sono soddisfatti Per modo di dire Io penso che il cittadino È soddisfatto Quando la visita La fa Non perché io Formalmente Gliel'ho offerta Cerchiamo di stringere Il campo Di fare in modo Che il territorio Dove gli viene offerta La prestazione Sia al proprio distretto O ai distretti vicini Quattro anni fa Era la regione Quindi da Urbino Potevano dire Vai a prendere La prestazione ad Ascoli Difficilmente Uno ti diceva di sì L'abbiamo stretto All'area vasta O all'area vasta vicino Quindi diciamo Da Urbino Ti possono dire Vai in Ancona Con l'ultimo Faremo il distretto E i distretti vicini Quindi sarà un lavoro Di qualificazione Diciamo dell'offerta Non dirò solo Te l'ho messo a disposizione Ma te l'ho messo a disposizione Più vicino possibile Una crescita importantissima In termini di risposta E vogliamo Pezzo alla volta Andare a coprire Tutto quello Che per il cittadino È lista d'attesa Non solo l'obiettivo nazionale Quindi per noi L'obiettivo nazionale È raggiunto Vogliamo fare Un obiettivo regionale Di maggior qualità Per essere sempre vicini A cittadini Vi siete dati un termine? Da gennaio Parte un nuovo blocco Di strumenti Questo è appunto Di stringere l'area Allargare le prestazioni Guardare anche Le visite di controllo Mentre per la fine dell'anno Dovremmo avere Innovazione sull'app Che è sempre più utilizzata È partita ovviamente Molto in sordina Perché l'app Diventa particolarmente interessante Perché riducendo I problemi Su lista d'attesa Abbiamo avuto tante chiamate Su il tempo che aspetto al telefono Al CUP Al call center Se uno chiama call center Aspetta tanto Per avere l'accesso Secondo problema Le code Quando vado Allo sportello Quindi la code Allo sportello Trovo lo sportello chiuso L'app È lo strumento Che permette Di saltare la coda Allo sportello Di evitare la telefonata Più immediato Allora stiamo potenziando Perché funzioni sempre meglio Si è più facile accedere Tutto il resto L'invito che faccio Sull'app È un patto Nonni-nipoti Perché chi ha bisogno Di servizi sanitari Prevalentemente È la popolazione anziana Chi sa usare le app Prevalentemente È la popolazione giovane Sarebbe bello Un patto intergenerazionale Dove il nipote Fa saltare la fila Al nonno Aiutandolo Nell'utilizzare Queste nuove tecnologie Che aiutano tanto Semplificano la vita Permettono Di poter andare In maniera ancora più immediata A prendere la prestazione Che ci serve Grazie al presidente Della regione Marche Luca Ceriscioli Per essere stato Nei nostri studi Grazie a voi Grazie e buona serata Io invece vi ricordo Che lunedì sera Torna Primo Cittadino Con il sindaco di terre Roveresche Antonio Sebastianelli Potete intervenire in diretta Telefonando lo 0721 86 14 33 Oppure inviarci anche Un breve messaggio di testo Al 338 49 68 250 Tra pochissimo invece Trasmetteremo un approfondimento Dedicato alla seconda puntata Di Suolo e Salute A cui seguirà uno speciale Sull'incontro organizzato Da Confartigianato Trasporti E che si è tenuto Nei giorni scorsi Aiesi Grazie per essere stati con noi L'informazione torna domani mattina Appuntuale alle 7 In diretta Con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali Arrivederci Grazie per la visione